Ancora pochi giorni le doppiette potranno nuovamente essere tolte dalla fodera. Sono decine di migliaia di cacciatori siciliani che attendono il 1 settembre per tornare a praticare la loro passione, seguendo attentamente le disposizioni della regione siciliana che nei giorni scorsi ha pubblicato il nuovo calendario venatorio 2012-2013. La preapertura della caccia si avrà appunto dal 1 al 15 settembre, ma sarà limitata ai soli cacciatori residenti in Sicilia. In questo periodo la caccia a Tortore e Colombaccio è limitata a quattro giornate. Previsto il divieto di mettere faggiane e utilizzare munizioni con palline di piomba a distanza inferiore di 150 metri dalle rive delle zone umide. Ogni cacciatore potrà scegliere tre giorni di caccia settimanali, esclusi giorni di martedì e venerdì. Dal 1 settembre sarà possibile la caccia al Coniglio Selvatico fino al 16 dicembre, al Colombaccio fino al 31 dicembre, dal 1 al 10 febbraio 2013, la caccia alla Tortora fino al 31 ottobre. Dal 16 settembre sarà aperta la caccia alla Volpe fino al 31 gennaio 2013, dal 1 ottobre quella al Merlo e all'Odole fino al 31 dicembre. Dal 2 al 31 gennaio 2013 sarà poi consentita la caccia alla Volpe con l'ausilio dei cani in battuta e secondo specifiche norme. Vietata invece la caccia ad appostamento al Beccaccino. Ogni cacciatore potrà esercitare l'attività venatoria nell'ambito di residenza, in quelli in cui è stato ammesso e inoltre in altri quattro solo per la selvaggina migratoria per 28 giornate, di cui 16 dal 1 settembre al 15 novembre e 12 dal 16 novembre al 10 febbraio del 2013. Dal 2 al 31 gennaio si potrà cacciare nei boschi, nei seminativi erborati, negli uliveti e nei laghetti artificiali. Il cacciatore potrà abbattere 15 capi di selvaggina al giorno con ulteriori limitazioni per ogni singola specie e per la selvaggina stanziale. Un secondo decreto ha regolamentato poi la caccia nei 233 siti della Rete Natura 2000, di cui 204 siti di importanza comunitaria, 15 zone di protezione speciale e 14 aree contestualmente SIC e ZPS. In queste aree nel periodo di preapertura è consentita solo la caccia di selezione agli ungulati e vetata la caccia a gennaio ed è consentito l'addestramento dei cani dal 1 settembre.